Il ponte Semovente è aperto, si comincia a intravedere la chiglia di questa nave tutta rugginita che sta entrando ed è stata la regione per la quale è stato aperto questo ponte. Sì, è una bettolina, cosa vuol dire? Vedete la parte verde della tolda? Ecco, quella lì praticamente viene riempita d'acqua e poi fa i servizi di riconimento di acqua per le isole. Quando è piena, come si vede dalla chiglia laterale, in pratica tocca quasi il pelo dell'acqua. Lentissima ovviamente e fa i rifornimenti di liquidi delle isole. Ora l'isola di Capraia per esempio è stato fatto un dissalatore e quindi è autonoma d'acqua, ma prima non era portata l'acqua e quando sono in mare si vede proprio al livello dell'acqua, al pelo dell'acqua, è la chiglia della nave, è al pelo d'acqua. Ora, ecco, il suonino è finito e tra poco riattacca la chiusura, stesso suonino ma allo rovescio. Eccoci, ecco fatto. Ora ripartano e si provvede a richiudere e a permettere il passaggio perché altrimenti il porta è diviso in due ore. Ora ripartano e se, come qui vuoi ci vuoi... Grazie a tutti.